E qua a parlare del carnevale ho Francesca Borsetti, ex Bella Main, Massimo Petruziello, Gioebi, ma anche anima del carnevale vercellese. Anima è una parola grossa. Anima, anima e core, insomma. Anima e core, anche tanto. Vercellese doc. E' proprio. Capi sinate. Capi sinate. No, beh, lo dico subito, non ci si può, anche per chi comunque non è puro sangue come me vercellese, non appassionarsi al nostro carnevale. E questa è una piccola frecciata che permettimela, ma devo dire subito in apertura. No, è vero. Un carnevale che per anni è stato uno dei primi carnevali. Abbiamo fatto un'intervista poche settimane fa anche a Cesare Losa, che per anni è stato l'anima del carnevale e raccontava proprio questo fatto, che per anni il carnevale è stato famosissimo, è uno dei primi cinque carnevali in Italia. Poi chiaramente è un carnevale che risente anche della, come dire, della crisi sul territorio e quindi quest'anno comunque abbiamo organizzato un bellissimo carnevale. Mi sembra che sia stato un successo incredibile in termini di partecipazione e anche in termini insomma di bellezza dei carri e dei cubi mascherati. Sì, assolutamente. Quest'anno che, diciamoci la verità, doveva essere un po' il carnevale, un po' così, del limbo. Un limbo per il carnevale invece è stato un colpo d'orgoglio da parte dei rioni della città, dei paesi che nonostante le mille difficoltà e le poche davvero risorse sono riuscire a mettere insieme un grande carnevale, dei grandi gruppi e grandi carri. Senti, Cappuccini vincitore. Sì, davvero Cappuccini vincitore con grande orgoglio, davvero con grande, siamo stati veramente contenti perché è stato un grande successo per noi e permettimi ma è stato un successo di un grande gruppo che da 40 anni, quasi, 38, da 77 da quando ha ripreso, continua a fare carnevale sempre e comunque da, di 30 anni possiamo usare lo slogan, da 40 anni sempre con voi in concorso perché siamo forse l'unico rione e l'unico paese in tutta la provincia, provincia insomma, che fanno parte del comitato manifestazioni e che comunque partecipano al carnevale di Vercelli, sempre in concorso e sempre presente tutte le edizioni del carnevale. Tra i primi ad avere le maschere, tra i primi ad avere il gruppo e comunque ancora in concorso anche adesso e quest'anno per noi è stato il quarto successo di fila con i gruppi mascherati. La scelta dei gruppi mascherati non è assolutamente una scelta di comodo per evitare del lavoro e del freddo perché comunque, del freddo al capannone perché comunque noi al carro d'appoggio e non rinunciamo mai, ma semplicemente una scelta di puntare, valorizzare quello che si è formato negli anni, ovvero un gruppo, un potenziale umano, un gruppo di persone che partecipa e collabora con noi non solo durante la sfilata ma durante tutto quanto l'anno e quindi farli sentire protagonisti durante la sfilata e durante il carnevale, secondo noi è stata la scelta giusta e per noi è una scelta giusta perché quelle persone durante l'anno, durante l'inverno comunque si trovano la sera a provare balletti, a provare coreografie, a provare scenografie, c'è il gruppettino che è delegato appunto alle coreografie con in testa Francesca Delfino, nostra coreografa ormai da parecchi anni, chi si è il pool di esperti che si trova per pensare ai costumi, quelli che vanno in cerca della stoffa migliore, più adatta, che è quella che sberluccica di più di sera, di giorno, questa no, il sole, comunque il carnevale è anche questo insomma, sono tante sfaccettature che la gente non conosce, che pensa che il carnevale sia davvero mettiti addosso quattro stracci, vai, ma il carnevale non è più quello, il carnevale come tutti gli eventi ha bisogno veramente di eccellenza, ma soprattutto anche di innovazione continua e soprattutto di uno di quelle cose che diciamo un vecchio bicciolano faceva suo, cioè la passione, se uno non ha passione non va avanti. Anche perché il carnevale dura insomma il periodo di carnevale, ma in realtà il carnevale il carnevale per chi lo vive dal di dentro, dura ufficialmente un mese, poi per chi invece fa carnevale, organizza il carnevale o comunque è dentro il carnevale, dura non dico 12, ma quasi, 13 mesi, no scherzo, 11 mesi. Lo so perché con anni con Roberto Garavaglia siamo stati nel comitato come Lea del Fupon e quindi ricordano quando costruivamo i cari al gelo dell'inverno, credo che sia più o meno quello che capita a voi. Sì, capita ancora a quello. Passano gli anni, si ringiovaniscono i carnevalanti. Eh sì, però alcuni, cioè parlo per me, ci sono ancora dei fondatori nel mio comitato poi cappuccini che comunque sono ancora lì, che ti consigliano, ti sostengono e anche tante volte dicono no, si fa così, no, si fa così, insomma vogliono dire la loro, però è quel dire la loro davvero da persone con cognizione, soprattutto con grande apertura di testa perché davvero ti hanno saputo crescere, uno, e due, consigliare e portare avanti in questo mondo che è il carnevale. Senti, ma il carnevale crea emozioni, ma anche, come dire, qualche emozione in più. Vero? Qua abbiamo la bella Maine. Sì, vabbè, il carnevale sa creare davvero delle emozioni e sentimenti. Assolutamente, belle amicizie, bei rapporti e tante, davvero, tanto feeling e tante emozioni. Con Francesca è stato davvero un amore nato al carnevale, non mi vergogno, non ci vergogniamo di dirlo, e continuo ancora nel carnevale sempre di più, sempre meglio. Senti, sentiamo la voce della bella Maine. Senti, sì che adesso basta parlare, basta parlare. Canto. Canta, la bella Maine canta. No, diciamo che io sono un po' nuova nel carnevale perché è iniziato tutto tre anni fa, anzi due anni fa, diciamo, ancora con Andrea. Però un amore per il carnevale è nata come musicista, perché io prima facevo parte della banda di Vercelli che poi l'anno in cui ho fatto io la bella Maine, la banda non c'era più, guarda caso. Giusto, non è che abbia perso la colonna portante che è salita sul carro. No, però da quando ho fatto la bella Maine ho capito che il carnevale è una malattia, diciamo, una bella malattia. Quando ci entri, quando entri nel vivo del carnevale, solo quest'anno io ho capito cosa vuol dire fare un carro, che poi è un carro d'appoggio. Però la serenità nel vedere il risultato del carro, piuttosto delle coreografie, di tutto quello che c'è da fare. L'ho capito poi con lui, perché è da un anno a questa parte che ho capito cos'è davvero il carnevale, come si va a costruire, le fatiche che poi vengono premiate del tutto. E vabbè, noi abbiamo grandi soddisfazioni, le abbiamo avute quest'anno, l'anno scorso. E sì, il carnevale per noi dura tutti i mesi dell'anno. Cioè, già eravamo via lo scorso fine settimana e già parlavamo del prossimo carnevale, giustamente. Non potevamo parlare d'altro. Tra l'altronde, bella Maine è comunque per sempre, no? Maine per sempre, sì. Maine per sempre. Maine, si toglie il bella. Maine per sempre. Maine per sempre. Sì, ho la fascia proprio lì davanti al letto che mi parla ogni mattina. Senti ragazzi, allora noi... Di solito c'è lo specchio specchio delle mie brame, lei fascia fascia delle mie brame. Perché la differenza del Biciolano, che la tradizione può essere portata avanti per qualche anno, la bella Maine, in realtà ogni anno cambia. Esatto, è un po' il brutto bello, perché secondo me deve durare un anno quella figura, ma ti lascia delle emozioni fortissime. Come Mirigliani, no? Cioè, un Miss Italia, c'è sempre lui, però in realtà la Miss Italia è solo una diversa tutti gli anni. Esatto, esatto. Senti ragazzi, il vostro gruppo è stato il primo classificato all'interno dei gruppi. Volerei rileggere la classifica del Carnevale di Vercelli e anche del Carnevale di Santiago. Noi come Vercelli Web TV abbiamo organizzato un sondaggio, una classifica parallela, tanto per creare un po' di pepe e per lo spirito goliardico del Carnevale. Mamma mia, quanto ci ha fatto penare quella classifica. E quindi quest'anno sulla nostra pagina web abbiamo creato questa piccola competizione sia su Santiago che su Vercelli e quindi vorrei scorrere con voi la classifica nostra del Carnevale, che in qualche modo diciamo che si è invertita rispetto alla classifica reale, dalla quale peraltro come Vercelli Web facciamo anche parte. E quindi nella classifica di Vercelli Web, le votazioni dei ragazzi, insomma di chi ci ha seguito sulla pagina Facebook, di fatto vede come Cari, abbiamo avuto 3500 votanti complessivamente, primo Brutfond con i pagliacci, con 1278 voti e il 36,47 di share. Ufficialmente loro erano arrivati terzi nella classifica del Carnevale e sono arrivati invece primi nella classifica del Vercelli Web. C'è comunque musica, è arrivato secondo e conferma il suo secondo posto di gradimento. Asiliano, che è il risultato del carro vincente all'interno della manifestazione, invece è terzo su Vercelli Web. Poi quinto blot, sesto nella classifica ufficiale e quarto nella classifica di Vercelli Web, quinto nella classifica di Vercelli Web il Concordia, che conferma il quinto posto, e sesto portatorino con il mondo delle fiabe, che era ufficialmente quarto nella classifica Web a sesto posto. Invece per i gruppi mascherati, primi cappuccini in entrambi le classifiche, i ragazzi si sono dati da fare, i gruppi mascherati hanno ricevuto complessivamente 4544 voti, quindi c'è stata un'ottima affluenza di pubblico Web, quindi vi siete confermati anche nella classifica Web. Bellaria, con Durmuma Carvè, secondi su Web e terzi nella classifica ufficiale. Canada, che si impenna dall'ottavo posto della classifica ufficiale al terzo posto dei gruppi mascherati. Pezzana, dove abbiamo Veronica Copetti, una delle animatrici del carnevale di Pezzana, con a Pezzana, benvenuti nell'alveare, secondi nella classifica ufficiale, quarti nella classifica Web. Quinti nella classifica Web, Lignana, che erano sesti nella classifica ufficiale. Caresana, sesti nella classifica Web, quinte nella classifica ufficiale. E Ronsecco, settimi nella classifica Web e quarti nella classifica ufficiale. Quindi sostanzialmente si sono un po' confermati alcuni e rivoluzionati invece per altri nella classifica, soprattutto per i carri. Come avete vissuto questa votazione Web? Allora, questa votazione Web, devo dire che la competizione poi, onestamente, cresce sempre. Quindi è stato, se sui 1700, penso che siano i 1700 messaggi che abbiamo mandato ai nostri amici, guarda che c'è la classifica, se ti piace, se hai voglia, se hai di qua, se hai di là. E tanti comunque hanno votato. Poi comunque si è sicuramente sparsa macchia d'olio, perché comunque già solo tutti i ragazzi che hanno sfilato con noi, meno male hanno votato loro, hanno fatto girare la voce. E comunque è stata, devo dire, una bella idea e mancava forse a questo carnevale una parte un po' più mediatica dal punto di vista delle votazioni, da questa parte di qua. che secondo me se viene coinvolto il pubblico risponde, si informa ed è più incentivato a seguire anche il carnevale. Perché anche solo magari per sapere che cosa votare uno va a vedersi o il sito ufficiale piuttosto che Facebook e quindi comunque uno inizia a conoscere, vedere e avvicinarsi in un modo anche un po' particolare al nostro carnevale. Ed è quello che forse ha davvero bisogno al nostro carnevale, che la gente si riappassioni a questa tradizione, perché comunque di tradizione si parla e che comunque si è invogliato a conoscerlo appunto, proprio perché è un ragionamento che facevamo con un gruppo di amici. Tante persone non sono più diverselli perché comunque con la globalizzazione e con tante persone che sono trasferite tante tradizioni, tante cose non sono più conosciute di default. Non sono più un bagaglio che uno si porta dietro perché il nonno, lo zio gliel'ha insegnato e gliel'ha raccontato una sera sul divano. Ma vanno riscoperte. Io avendo mamma vercellese e nonna e tutto quanto, e nonni vercellesi, ho avuto la possibilità di impararle e di conoscerle. Infatti non ho vergogno di dirlo, parlavo prima il dialetto dell'italiano perché è cresciuto in negozio con mia nonna. Justamente. Infatti, io conoscevo prima, ho parlato prima di dialetto dell'italiano. Capucinati. Capucinati e così, niente da fe. E quindi, appunto, riscoprire le nostre tradizioni che sono veramente belle tradizioni che tante volte si fondono con leggenda, con mito, con tante cose. Però davvero è bello riscoprire tante cose. L'ho scritto anche quando abbiamo sistemato il sito del Comitato Manifestazioni che si fondono davvero tra mito e leggenda, perché il pallone del Comitato Capucini, quel pallone aerostatico caduto nel 1875 del Mews Scott, piuttosto che la fontanga della Kitamai del Brutfonte, tante altre cose che vanno riscoperte e rivissute, secondo me, da tanti giovani come me, che si appassionano sicuramente, perché comunque chi si avvicina al carnevale, Francesca ne è un esempio, non lo abbandona più. Ha fatto la trasfusione di coriandoli e quindi ha più coriandoli anche lei che sangue nelle vene. Quindi è quello il bello del nostro carnevale. Grazie.